Ma lo sai che in soli 3 anni gli pneumatici perdono circa il 40% dell'aderenza originaria al momento della fabbricazione? Sì, dal momento della fabbricazione, non quando li hai montati. Per questo motivo su ogni pneumatico sono riportate 4 cifre che indicano la settimana e l'anno di produzione. Black Traction è una miscela liquida che arricchisce e migliora la mescola per assorbimento, per migliorare e ottimizzare le caratteristiche della gomma e reintegrare i componenti persi con l'invecchiamento e l'ossidazione, per aumentare o rinnovare l'aderenza persa con l'invecchiamento. Un miglioramento dimostrato con la riduzione dello spazio di frenata necessario per fermare auto e moto, sia su asfalto asciutto che bagnato, con gomme vecchie o nuove, estive o invernali, che a una velocità di 70 km orari equivale a circa 4,5 m di spazio in meno per fermare auto e moto. È misurato anche con sofisticati e precisi strumenti di misura come accelerometri e telemetria. Black Traction e ATT si differenziano da tutti i prodotti concorrenti per la lunga durata d'effetto, che può essere rinnovato, ma soprattutto perché, quando l'effetto termina, lo stato della gomma non è peggiore rispetto a prima dell'applicazione di Black Traction. Non contengono corrosivi e non rovinano la carcassa, cioè la struttura portante del pneumatico. Quando l'effetto termina, si può rinnovare applicazione ed effetto. L'applicazione di Black Traction e ATT, nelle gomme stradali, estive e termiche, nei periodi invernali, consente alla gomma di raggiungere più velocemente la temperatura di esercizio ottimale per avere il massimo dell'aderenza possibile. E l'effetto antiossidante contrasta gli shock termici e l'invecchiamento. L'applicazione di Black Traction ti permette di mantenere costante l'aderenza degli pneumatici fino a quando non saranno consumati, permettendoti di sfruttarli sempre in piena efficienza fino a quando non sarà necessario sostituirli perché consumati, e non perché in buono stato ma vecchi, con un notevole risparmio. In particolare, le nuove mescole, che contengono poco caociu e tanto materiale di riciclo, invecchiano ancora più rapidamente di quelle di una volta. Il prodotto ha una resa variabile tra i 15 e 18 metri quadri di superficie piana per litro, variabile conseguentemente al tipo e allo stato di invecchiamento della mescola. È conservato ben chiuso anche dopo l'utilizzo, non ha scadenza. L'applicazione su gomme racing permette di migliorare le prestazioni e contrastare il decadimento delle prestazioni derivato dagli shock termici che cristallizzano la gomma. Black Traction è un prodotto brevettato che è nato e si è evoluto nelle competizioni come tutte le tecnologie applicate ad auto e moto moderne, in circa 40 anni di collaborazioni nelle competizioni di auto e moto. Un prodotto italiano brevettato ed unico, ora a disposizione di automobilisti e motociclisti per migliorare il controllo e la sicurezza stradale. Puoi ordinare Black Traction dal sito Black Traction e riceverlo comodamente a casa, ma non lo trovi su piattaforme come Amazon. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.